Canarini, esotici, ondulati indigeni e pappagalli sono alcuni delle varie specie che saranno presenti il 6 e il 7 ottobre prossimo alla mostra ornitologica alla bocciofila la combattente di Fano. La mostra a scambio in collaborazione con il club Passero del Giappone sarà aperta al pubblico e ai tanti appassionati di volatili che potranno ammirare gli sgargianti colori e la bellezza dei tanti esemplari esposti. L'iniziativa del concorso si articolerà in modo che l'allevatore che espone l'animale all'atto dell'ingabbio potrà decidere se inserire il soggetto nell'elenco degli uccelli da cedere indicandone prezzo, anno e sesso. Dopo il giudizio le gabbie dei soli soggetti da accedere verranno etichettate per la cessione che sarà curata dal comitato mostra e potrà venire senza attendere lo sgabbio. Si stilerà successivamente una classifica con la premiazione finale. Siamo ospiti di questa bocciofila la combattente che ringraziamo per l'ospitalità, ringraziamo anche il comune di Fano e sabato ci sarà il giudizio di giudici qualificati e sabato pomeriggio sarà aperto al pubblico e così anche tutta la domenica fino alle ore 18. Ci saranno esposti canarini, papagallini, esotici, c'è una mostra di bonsai. Vi invitiamo tutti a partecipare, l'ingresso è gratuito e portate i vostri bambini perché ci sono dei canarini, degli uccellini, dei papagallini che abitualmente non si vedono, sono tutti diciamo uccellini che sono curati con amore, e passione dai nostri allevatori.